Io metto la mano sul fuoco, sul processo, sugli investimenti che abbiamo fatto, sulle competenze e sui risultati, cioè la qualità delle acque. Quello sì, perché le ho viste, le abbiamo fatte, ho visto le perizie terze che sono state fatte senza il personale dell'Eni per 75 giorni, per 43 giorni. Adesso quelle sono state fatte non da noi, su quelli ho visto i risultati e su quei risultati sono assolutamente confortato. Sul resto non ho messo la mano sul fuoco, su niente.